Ok ragazzi, eccoci qua per il commento del giorno Oggi abbiamo un commento abbastanza strano Che mi ha abbastanza inquietato Di questo Dario Corrao Lascio il nome perché vi spiego Quando li trovo su Facebook Cancello, me la censuro in nome Perché purtroppo Facebook, insomma, ha un po' di privacy Qui su YouTube, insomma, cerco di non cancellare Insomma, anche per dare più soddisfazione a quello lì Dario Corrao mi scrive Che oggi guardando la pubblicità del tuo video Sono andato a finire a guardare le canzoni del piccolo Lucio Perché Che davvero non ho parole Che dai miei video di gaming si finisca a questo Io non ci sto Ok bene gente, eccoci qua a una puntata let's play di Outlast Oggi eravamo rimasti qua Non mi ricordo dove stavamo inseguendo il padre Martin Era il padre Martin Era il padre Martin, sì Non mi ricordo se si chiamava così davvero Cioè tipo uno che... Ah, è il padre Martin Ci sei quasi Devo passare da piani superiori? Oddio Dicevamo allora Cioè era il signor padre Martin Dove... Che postaccio è questo? Cosa facevi? Ok Gran bel postaccio insomma, no? In teoria non so del mero dove sono Che è sta rubaccia? Ah, il montacaric della banderia ha bisogno di tre fusibili Dove li trovi fusibili? Perché non mi fido di andare di qua? Ragazzi Io stavo dicendo Cioè sta cosa da religione Cioè avete fatto caso che Stanno aumentando sempre di più i crocifissi? No ma seriamente Oh merda Ho sentito un rumoraccio Ok Continuiamocela tranquillamente Un rumoraccio è random Perché mi viene l'idea che c'è Qualcuno insieme a me che Merda che paura Idiota Oddio le candele Ragazzi Si sta trasformando in un costo religioso Si diventa una costa religiosa Mi metta a piangere Io voglio... Porca puttana Ah Prega per la rivelazione Ma dai Non ci credo Davvero una cosa di religione Che cazzo ha poi sto qui Sono delle pile Ma faccia prendere la pila Questo qui Col signor mannare Mai più Nooo Oh 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 Ok va indietro Va indietro per favore Chi è questo? Oh Pile ovunque Porca di quella puttana I dottori sono andati tutti via Niente più dottori Cosa sono venuto a fare Io in teoria qua Parte per prendere le batterie Parte quello Cosa sono venuto a fare? Vedere un essere poraccio Distrutto Nel suo intento Ah perché sta Sta pregando no? L'ha fatto pregare alla fine Insomma un posto inutile no? Spiegate come faccio a non farmi Vedere da ora da sto qui Bravo fai casino Mi raccomando Ora per uscire farò ancora più Cassino Ok Il tuo bellissimo culo mi Mi sta distraendo Ma che gli prendo uno scatto Improvviso e mi picchia Ma vai Ma fai più casino ancora Dai tanto mica ti sgama no? Coglione Cretino Sono delle cazze quelle Perché sento dei rumoracci a caso ogni volta Non so po' quanto mi possa con Pile Hai raccolto due batterie Ma proprio me le danno così a caso Oh Porca troia Non mi ha visto vero? Oh bravo vai di là Grande 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 Ha raccolti il fusibile Non è servo un tre ha detto no? Era meglio se chiudevo però la cosa Dovevo chiudere la porta Porca puttana Sono un idiota Dovevo chiudere Appunto Appunto Da ora mi sgama Ora mi sgama Ora mi sgama Ma è masgamosa Odia per qua ragazzi Non so dove sia in teoria Che hai detto? Ho sentito correre Te ne sei andato vero? Aspettiamo che ripassi ora Con grande nonchalance Stai solo sti rumore a caso Le cose che fanno più inquietare Sono i rumori a caso Se devi tv basta idiota no ok non mi piace dava che fino a fatto è andata fa la maratona di new york invece di stare qua ecco dovrebbe essere lui dovrebbe è sparito ma ci credo è sparito davvero ragazzi è è andata fa la maratona cioè palle io non so se andare vai sta venendo verso di qua vai attenzione il corridore numero 14 proveniente dal manicomio attenzione corre e arriva al traguardo incredibile mi è andato via che cazzo era successo aiuto no cazzo che cazzo era successo mi è andato via la luce io non so sinceramente dove ah ma ce n'ho due no scusate 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 ho messo pausa perchè mi è preso un fottutissimo colpo che cazzo fate questi rumori maremma ora io appena tolgo la pausa cosa cazzo mi succede eh no eh no eh no la maremma maiala no che sia lodata sempre comunque oddio scristo eh me lo devi sucare me lo devi sucare me lo devi sucare suca schifoso comunque ne ho due allora ragazzi ne ho due due fusibili ne manca una non so dove andarla a cercare sinceramente perchè sono un pezzo di merda che cazzo c'entrava non lo so comunque comunque aspettiamo che il corridore numero 14 se ne vada non so perchè l'ho chiamato numero 14 cioè è un grande il corridore numero 14 perchè lo vedo sempre che corre madonna dai forza dai che sto sprecando tutta la batteria maremma batteriosa mamma mia oh ah mi si sta scaricando anche la batteria muoviti schifoso proprio guardalo no non vuole passare ecco sento camminare però no no batteria calma calm down batteria ora proprio mentre non c'era ok ma dai ma non è possibile sono stato nascosto per tre ore e tu arrivi qua tutto felice tutto happy non mi ha visto non mi ha visto incredibile ragazzi incredibile non mi ha visto queste sono cose per nascondersi figo figo mi piace no Ok, se n'è andato Ora, chiudiamo questa dannata porta Ma ste trombe improvvise Dai, non mi hai visto Non è così intelligente Da vedermi attraverso il vetro Puta, putta Secondo te sono così stupido Abbastanza, mi potevi vedere da dietro No, no, no No, no Vuoi giocare a nascondino? Mi piace giocare No, a me no Ragazzi, non so dov'è Mi hai rotto le palle In teoria E in pratica Se andassi di qua Che postaccio è orribile E' uno, là? Da una sto Sto meno sta diventando miope Non scherzo Allora Per la maremma maiala Devo prendere l'ultimo fusibile Quindi per ora Chiudo io Così nessuno Apre Non mi disturba Durante la mia ricerca Di stannatissimo fusibile Cos'è questo? Ah, ok Va bene Va benissimo Ok Volevi imitare Gesù Vedo Va bene Contento te, contenti tutti, no? Ecco il fusibile Vai Abbiamo preso anche sto fusibile, no? Ora Ora Spingi Spingilo come non hai mai fatto Spingi come non hai mai fatto Ok Ora apra la porta Chi c'è? Ma in teoria nessuno In teoria In teoria Mi è andato anche bene Muoviti Ma porca puttana È caduto di sotto Ma no Oh Cosa? No 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 Non puoi farmelo così Non puoi essere così malvagio Non puoi Fammi saltare schifoso Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Non mi ritrovo più Non sono più me stesso Oh Jesus Jesus Christ Spingilo dentro Spingilo dentro Non puoi aprire Non puoi aprire Oh vai Oh passa Schifoso Ma guardate Si arrenderà eh Ma le batterie Un po' di batterie O richiedo troppo Signori Magari vicino al signor No eh Nulla Perfetto Ok siamo rinchiusi qua dentro Dove lo vado a cercare io Quella batteria Quello lì sta sorvegliando Ah no Devo andare qua Esatto Cazzo Prendi la chiave Coglione Non c'è tra il piano 3 Allora Però quello lì Che è lì Si calma Perché io devo andare Bene Stai calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Andiamo ad andare qua Perfetto Ce l'ho con me Dite Si Ce l'ho con me Perfetto Purfetto 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 Ok Non me ne fotte Una sega se lo trovo Basta Sanguinare Lo dico anch'io Basta Queste mestruazioni Oh Jesus 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 Saltatela E me lo deve Come dico sempre Me lo deve Sucare Anche stavolta Me lo dovete Sucare Quindi Apri la porta E siamo Al terzo piano Sicuri che siamo Al terzo piano Io devo fare Un salto Della madonna Peggio di Assassin Creed No Non ci sono riuscito Ecco perché Odio Assassin Creed Allora Altro salto Lord Creepa Fa il salto Segui la scea del sangue Cosa ho detto Segui la scea del sangue Va bene Batteria Random Oddio Guardate C'è una fotocamera Avranno ammazzato Ancun altro Con la fotocamera Ok Che cazzo Va bene Calmo Calmo Non è successo Nulla Calmati Calmati Beh un bel salto Grande Lord Creepa Grande Grande Che edo Cazzo Il fantasma Di nuovo Come faccio a risali su Ora Ok c'è un Una cosa Di stile Aia Che è successo No Non devo fare così Dove cazzo devo andare Va bene Sì La ricarico Sta dannatissima Batteria Oh Sì Così Va bene Ok Qui c'è il mega buco Ora Perfetto Che bei posti Mamma mia Sempre più eccitanti I posti di Outlast Ora Datemi una porta Da aprire Vuoi arrivare Da qualche parte Di serio Porte simpatiche Da aprire No Porte simpatiche Ok Ehi Va bene Matissimo spirito Va bene Porte simpatiche Da aprire O chiedo troppo O chiedo troppo Ok Non esistono porte simpatiche Da aprire Questa sì Questa si è chiusa Take what No 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 Grazie a tutti.